Si parla di finanza giusto? Sì, partiamo già a bomba, come si dice, con dei nomi molto importanti, ma altrettanto parliamo di finanza, perché l'economia circolare ha bisogno di un motore, la transizione sia una transizione, questo movimento verso il cambiamento ha bisogno di un motore, ha bisogno di un motore, e ce ne sono anche troppi ideologici al momento, da tanti anni, però c'è bisogno di un motore, la finanza, porti da qualche parte, quindi la finanza è importante. Abbiamo, ripeto, nel primo panel persone veramente di bellissimo cali, di partire alla grande. È un tema che avevamo già affrontato, abbiamo già affrontato all'interno delle nostre dirette radio, un tema tra l'altro che ha avuto un successo, ci auguriamo che questa prima parte... Bene, vogliamo introdurre gli ospiti? Bene, allora, abbiamo due ospiti già pronti per entrare e un altro ospite poi che si unirà a breve. Abbiamo Giovanni Battista Costa, per gli amici noto anche come Bacci Costa, quindi date che una persona molto nota, credo che sia importante chiamarlo anche per come è noto, ed è presidente di Next Nuova Economia per Tutti. In realtà è una persona estremamente, estremamente, come dire, sulla scena da tanto tempo e lo conosciamo per tantissimi suoi incarichi di amministratore e manageriale. Ad esempio è stato amministratore del gruppo Costa di Costa Crociere, amministratore delegato e direttore generale di Costa Aquarium, il bellissimo, straordinario acquario di Genova. Poi una serie di incarichi importantissimi nell'ambito della gestione dei parchi e dei giardini zoologi, ad esempio, di Roma e tantissimi, tantissimi altri incarichi. E poi, appunto, tra gli incarichi più recenti c'è quello di Next Nuova Economia per Tutti e amministratore di questo bellissimo, questa bellissima comunità che valuta le aziende che si chiama IonBuy. E quindi diamo il benvenuto a Bacci Costa, seguito da altri due amici, oramai amici di Reco, altrettanto, altrettanto, come ti avevo detto, è un panel straordinario questo. Abbiamo Ugo Biggeri, presidente di Etica SGR, un grandissimo studioso, ma è uno studioso, come si dice, walk the talk, quindi uno studioso che non solo studia, non solo produce ricerche in ambito della giustizia sociale, dell'ecologia, eccetera, ma è una persona che pratica, quindi ha un'esperienza nell'attivismo estremamente, estremamente spiccata, oltre che nella sua vita personale. Ho scoperto, tra l'altro, che vive con la famiglia in una comunità in cui si pratica l'accoglienza, gli stili di vita sostenibili e l'allegra sobrietà. Quindi, ecco, una persona che, oltre a essere, tra l'altro, il fondatore di Banca Etica, di cui è stato presidente fino a pochissimo tempo fa, e di un altro importante network indipendente di banker, di banche. È un fisico, l'ha lavorato in fisica, con tanto di DPHD, eccetera, insomma, come ho annunciato, una persona straordinaria e, peraltro, credo, nota al nostro pubblico. E poi abbiamo un ospite che ha già solcato più volte il palco, Alessandro, buongiorno, sul palco del nostro, del Reco Festival, Alessandro Maria Lerro, presidente, è qui con l'etichetta di presidente di Entopan Innovazione, che è l'incubatore e acceleratore, appunto, del gruppo Entopan. È un avvocato, ma è un avvocato particolare. Intanto è 25 anni, se non sbaglio, Alessandro, che fai questa attività. E in questi 25 anni ti sei specializzato nella proprietà intellettuale, nella finanza. È presidente dell'Associazione Italiana Equity Crowdfunding, dell'Asso Fintech, cioè di molte attività, di molte specializzazioni. Ecco perché nel mondo è molto conosciuto e forse uno dei professionisti più eminenti in questo settore. Ed ecco perché, appunto, è qui con noi, sia con la testa che con il cuore. Io, se avete piacere, vi stimolerò con degli stimoli, con delle domande. In questo settore, Alessandro, è importante anche per un altro motivo. Perché chi si fosse distratto nella economia e nella finanza, chi si fosse distratto negli ultimi, nell'ultimo decennio, probabilmente potrebbe risultare accerchiato. Perché, ad esempio, nel settore della finanza c'è un grosso movimento dal basso, di cui ci parlerà, ad esempio, Alessandro più tardi, il movimento della finanza del crowdfunding, questa finanza dal basso, e non solo, tantissimi altri movimenti di finanza dal basso. E poi c'è una notizia che è ancora calda, ancora la carta non si è freddata, la notizia dei grandi gruppi, tra cui BlackRock, ma non solo BlackRock, che hanno annunciato già da, che recentemente, un anno fa, e poi recentemente, hanno ribadito l'importanza del creare valore economico, del creare valore al netto, appunto, del profitto. Non è che il profitto non è importante, ma prima del profitto, dice il più grande attore internazionale della finanza che BlackRock, ci sono le comunità, ci sono le persone, ci sono i dipendenti, ci sono i fornitori. Quindi questo è, chi si fosse distratto, probabilmente rischia di essere preso di mezzo. E se la regia ci fa uscire, ho cercato, poco fa con gli amici della regia che ringraziamo, la copertina della rivista The Banker. Sapete, The Banker è questa famosissima rivista londinese di proprietà del Financial Times e poco più di un anno fa esce questa, esce con questa copertina. Quindi vorrei, per il primo giro di tavolo, chiedervi perché The Banker, la rivista della finanza, la rivista dei bancari, perché questa rivista esce con una copertina così straordinaria, così innovativa, così rivoluzionaria? Nella The Banker un anno fa esce con questa, con questa copertina dove mette l'economia circolare, dove lega l'economia circolare alla finanza. Beh, perché i temi dell'economia circolare, dell'impatto ambientale ormai sono diventati temi globali. Esiste sicuramente un rischio per le imprese finanziarie. Le imprese finanziarie vivono di previsioni, le incertezze determinate dai cambiamenti climatici in termini di eventi estremi, piuttosto che di cambiamenti epocali, di migrazione, eccetera, determinano l'incertezza e la volatilità non controllata è sicuramente un nemico della finanza. Quindi la finanza si interessa anche per motivi, diciamo, molto molto attinenti alla sua attività tradizionale specifica. E poi è cresciuta, cresce sempre di più a livello internazionale la consapevolezza soprattutto delle persone, che però poi le persone alla fine fanno i mercati, che è necessario porre in atto attenzioni ambientali e sociali, soprattutto ambientali, molto più alte che nel passato, soprattutto sul tema dei cambiamenti climatici. E se le persone che fanno il mercato cominciano a indirizzarsi verso questo tipo di attenzioni, beh, comunque il mercato finanziario segue, magari per ora con dei prodotti, magari limitato al 10%, che comunque è un'enormità, però insomma, che sia questo il motivo. Bene, bene, grazie. E chiudi il giro, il primo giro, Alessandro, Maria, il tuo punto di vista. Io sono assolutamente d'accordo con Ugo, che è un altro saluto. In tutti i convegni internazionali che sto frequentando, l'ultimo anno, sia online che fisici, la parola d'ordine è sostenibilità e attenzione al cambiamento climatico. Parliamo di management, parliamo di industria e parliamo anche di finanza. È una parola d'ordine che indica chiaramente una priorità disegnata a tutti i livelli politici e istituzionali e quindi è chiaro che la finanza non può fare a meno di allinearsi su questa tendenza, quindi andando a cercare delle proposte di investimento che siano nell'ordine della sostenibilità, in linea con la sostenibilità e, perché no, con i principi classici della finanza etica. Grazie davvero, vi avevo detto che i contributi sarebbero stati di livello. Bacci Costa, che cosa significa in pratica cambiare la finanza? Se ne parla, ma che cosa significa? Qual è il senso della sostenibilità e di quella integrale? Ha detto bene questo termine, diciamo, sostenibilità integrale, perché anche l'intervento che mi ha preceduto ha parlato che ci vuole l'obiettivo a raggiungere la sostenibilità. Il problema è che bisogna intendersi che cosa è sostenibilità. Anche quando Vigieri poco fa ha detto soprattutto sull'ambiente, io invece dico soprattutto sul sociale, perché? Perché l'ambiente è più fisico, è più noto, è più denunciato. È chiaro che ha grandissimi problemi anche l'ambiente, sappiamo a livello internazionale quali sono i vincoli. Però sul sociale veramente è lì dove c'è il cambiamento reale dell'economia. C'è un'economia che è in grado di dare risposta ai problemi, diciamo, dei cittadini, del benessere delle persone. E questa è per noi una nuova economia. L'integrale cosa significa? Che qualunque soggetto economico deve essere sostenibile, quindi buono, in tutte le aree, no? Quindi l'area della governance, della catena di fornitura, dei lavoratori, dei clienti, dell'ambiente e del suo territorio. Questo qui molto spesso nelle dichiarazioni internazionali si parla di sostenibilità, ma non a questo livello. Teniamo presente che in questo momento, come Next, stiamo organizzando, direi, la società sui cittadini, che sono la forza del mercato, perché ha veramente una forza di cambiamento e di pressione dal basso per premiare le aziende che sono sostenibili. Quindi per quanto riguarda, per esempio, anche le banche, anche le banche devono essere sostanzialmente sostenibili. Cosa vuol dire? Non solo emettere finanziamenti etici, quindi che premiano aziende sostenibili, ma anche loro stesse essere sostenibili, il che vuol dire, per esempio, anche ridurre comunque gli armamenti, i finanziamenti sugli armamenti, sull'azzardo, e anche avere al loro interno dei crimini aziendali positivi, del rispetto anche delle persone che lavorano, il rispetto dell'umanità dei clienti del loro territorio. Questi sono elementi di coerenza, una scelta strategica di sostenibilità integrale. Ma Cicosta, vedi, bravissimo, avete già imparato a fare senza di me, hai già lanciato la palla al banchiere, hai già lanciato la palla a Ugo Biggeri, perché magari ci potrebbe dire una volta per tutte che cosa significa finanza etica e quando è che una banca che si occupi di questo è etica? Ma ecco, riprendendo proprio quello che è stato detto, la finanza etica, almeno in Italia, nasce sostanzialmente 25 anni fa, il gruppo Banca Etica, e parte dalle considerazioni che sono state appena riportate, cioè mettere insieme attenzioni sia sociali che ambientali, e direi anche culturali, in un'ottica di miglioramento del pianeta, delle persone, e anche dell'idea con cui si fa il profitto. Piacerebbe che il profitto venisse molto rivalutato anche da chi si occupa di sostenibilità ambientale e sociale, magari chiamandolo prosperità, perché dà un pochino l'idea di un'economia che fa bene a tutti e non soltanto a poco. Detto questo, come si fa? Forse 25 anni fa era una cosa pionieristica, le definizioni erano fatte in casa, oggi indubbiamente succede che sono in particolare l'Unione Europea, che fa un'azione di leadership a livello mondiale per definire la finanza sostenibile piuttosto che responsabile, c'è stato il principio per lo sviluppo responsabile delle Nazioni Unite, ma oggi è l'Unione Europea che onestamente sta guidando questo percorso. E come dicevo prima, non è una scelta della finanza etica, è una scelta dei regolatori, sta molto attenta soprattutto alla sostenibilità ambientale e alla sostenibilità rispetto ai cambiamenti climatici. È ovvio che bisogna spingere anche per le attenzioni sociali e ambientali, ci sono dei lavori in corso a livello dell'Unione Europea, però per rispondere alla sua domanda per fare sul serio finanza etica bisogna avere degli obiettivi chiari, che siano comunicabili e bisogna avere degli indicatori per misurarli. Non è che si può dire semplicemente che si fa finanza etica, ma anche finanza sostenibile perché abbiamo investito il 10% in meno nell'estrazione del petrolio. È qualcosa di un pochino più profondo, quindi deve inserirsi nei meccanismi di controllo interno, come controlli la volatilità del tuo rendimento o i bar sui rischi, devi controllare se da un punto di vista del punteggio etico, degli indicatori etici che tu vuoi raggiungere, i tuoi prodotti, i tuoi investimenti stanno performando bene oppure no. La finanza sostenibile, in particolare la finanza etica, è entrare nei meccanismi di gestione aziendale, della gestione finanziaria e inserirci degli indicatori altrettanto importanti come quelli di rischio e rendimento, di valutazione per farla funzionare. Ecco, in questo io credo che stiamo però a distendere a qualche cosa che secondo me è uno tsunami. Il fatto che BlackRock dica che vuole portare al 10% la sostenibilità dei suoi fondi, quindi vuole avere il 10% dei suoi fondi, per essere chiari farà sì che ci saranno dei prodotti sostenibili di BlackRock, sicuramente molto ben fatti perché sono dei gran professionisti, che sono parecchie centinaia, centinaia di miliardi, quindi sono molto di più di tutto quello che per ora sarà un cambiamento importante nel mercato. Però in realtà lo tsunami sta nel fatto che si ammette per la prima volta che forse bisogna fare finanza con attenzioni non meramente agli aspetti finanziari ma anche agli impatti ambientali e spero in futuro ma arriverà sociali. La stessa BlackRock prima o poi sarà impossibile dire che ha da una parte un portafoglio di fondi buoni e dall'altra un portafoglio, il 90% di portafoglio di fondi non buoni che sono cattivi. E quindi il mercato secondo me nei prossimi anni sarà costretto ad occuparsi sempre di più della sostenibilità ambientale e sociale e questo è il modo con cui si può sperare che si inneschi. Da parte nostra, per chi l'ha fatto da 20 anni, in realtà come sempre c'è sempre da imparare, c'è da migliorare nell'essere pionieri, nel porre nuove attenzioni. Per esempio per noi, oltre all'ambiente sociale e la governance, uno dei punti su cui già stiamo operando selezione è il tema fiscale. Le grandi aziende multinazionali fanno dell'ottimizzazione fiscale una leva competitiva che non sempre è corretta rispetto ad altri player. Ecco, noi valutiamo che se questa leva, queste attenzioni all'ottimizzazione fiscale sono eccessive, non investire in quelle aziende. Chiaro, credo che il BlackRock e non solo BlackRock, queste asserzioni, queste affermazioni mandino in cantina o in soffitta un sacco di manualistica economica degli ultimi 50 anni e forse anche di più. E questo è buono per Alessandro Magliare, è l'erro perché ha scritto un libro, Edito dal Sole 24 ore sul crowdfunding e forse ci sarà spazio nelle nostre librerie anche per questi nuovi temi. Alessandro Maria, proprio nel tuo manuale, che per me per esempio è stato utilissimo perché mi ha chiarito il tema del crowdfunding, se ti va, se vuoi chiarirci anche a noi che cos'è esattamente il crowdfunding e perché non è soltanto uno strumento finanziario? Guarda, mi aggancio un attimo all'ultima chiusa di Hugo per dire una cosa importante. I bilanci in termini etici ci danno degli indicatori che sono molto preziosi per valutare l'impatto di un intervento, quindi riusciamo a vedere, a contare i ritorni di tipo etico nel progetto. E poi vediamo anche che i progetti di tipo etico hanno una redditività che non è per nulla da invidiare alle nostre aziende, quindi sono estremamente redditizi. E visto che la finanza è comunque un mondo, è un mercato, è qualcosa che vende prodotti agli investitori, il modo in cui tu vesti il prodotto è sicuramente importante, quindi a parità di condizioni credo che i nostri nomi saranno sempre più interessati ad appuntare dei prodotti che hanno un sottosombo etico. Venendo al crowdfunding, il crowdfunding è esattamente questo, è un maggior coinvolgimento degli investitori, soprattutto ritene gli investitori a dettaglio, cioè i piccoli investitori, in quelle che sono le operazioni finanziarie. I piccoli investitori possono entrare nelle aziende acquistando dell'equity, cioè diventando soci delle società, o con il debito finanziando le società con dei prestiti. La novità, la rivoluzione del crowdfunding è l'apertura all'investitore a dettaglio, cioè fino a un po' di tempo fa e ancora adesso in molti paesi, alcuni investimenti estremamente redditizi, tipo gli investimenti in venture capital, sono riservati esclusivamente agli investitori professionali, solo loro hanno accesso a delle operazioni che possono rendere dei motivi più significativi. Con il crowdfunding invece si rende disponibile a tutti questo strumento, che è in primo luogo uno strumento per guadagnare, che se c'entrano in venture capital c'entrano per guadagnarci, quindi anche il pubblico di differenza. Dall'altra parte sono un ulteriore strumento di validazione e li ritorniamo sul fronte dell'economia circolare, sul fronte dell'etica. Nel momento in cui io ho un progetto nel quale sono entrati 500-600 mille investitori al dettaglio, ho avuto una validazione di tipo popolare, quindi non strettamente economica, ma probabilmente mossa da altre regioni che possono avere un interesse poetico, possono avere un riferimento a un contatto specifico di un progetto con un territorio nel quale quel progetto va ad incidere, con la sostenibilità anche ambientale di quel progetto. Se andiamo a vedere molti dei progetti finanziati in crowdfunding nel settore energetico, sono proprio finanziati dalle comunità territoriali sui quali quel progetto va ad incidere. Perché? Perché sono coinvolte sia nel processo decisionale di aprire una determinata attività, sia nel processo di apprezzamento del tipo di impatto che ha quella scelta sul territorio, quindi produzione energetica, impatto visivo, impatto estetico e così via. Quindi è una forma di democratizzazione della finanza che consente sia di partecipare ai guadagni che di partecipare alle scelte, orientando poi anche quello che sarà la decisione da parte degli investitori professionali. Grazie, grazie, grazie. Hai chiarito molto, credo per chi non conoscesse il crowdfunding. Abbiamo tutti in tasca uno o più mascherine. Bacci Costa, è il momento di cambiare, ma verso cosa? Qual è la nuova normalità? La nuova normalità mi sembra che la novità grossa è questo discorso della sostenibilità integrale e anche del cambio della strategia di filosofia economica. Molte delle imprese, quando BlackRock e molti nazionali, dichiarano che un approccio molto stakeholder è il cambiamento rispetto al puro profitto, questo è una dichiarazione di cambiamento. Il problema grossa è di dare concretezza a questo cambiamento. Il cambiamento è la sostenibilità integrale, cioè ai cerebravi, quindi prendersi cura, come abbiamo detto prima, delle persone e dell'ambiente. Però essere bravi integralmente è qui il punto, perché io prendo un dato atto a BGR, quindi a Banca Etica, a Etica 6gr, perché ho avuto finanziamenti, ho fatto investimenti con loro e so che verificano veramente rispetto a una integrale sostenibilità, quindi sotto tutti gli aspetti. Mentre invece denuncio queste denunce internazionali, queste volontà internazionali di sostenibilità, perché vedo che sono motivate più dalla riduzione del rischio, quindi teoricamente non fare errori sul rispetto della dignità delle persone, sia sui diritti umani, ma non su un cambio di rapporto tra capitale e lavoro e tra rapporto partecipativo. E quindi sono cose che hanno ancora tutti i germi al loro interno di un profitto che non è in grado di risolvere i problemi dell'uomo e dell'ambiente. Bisogna monitorare veramente il cambiamento di futuro, è dato da un mondo migliore, da cittadini felici, ma per fare questo l'economia deve veramente integrare al suo interno e le aziende e tutti i soggetti economici veramente scelte di strategie di reale sostenibilità. Fantastico. E Nebigeri, io passo metà delle mie giornate, delle mie settimane dentro le banche, lavoro per una cinquantina di banche, quindi sono spesso dentro le banche, ho contatto con gli amministratori, ho contatto con chi le dirige, ho contatto con il personale. Durante il lockdown abbiamo ringraziato quelli degli ospedali, abbiamo ringraziato quelli dei supermercati, ma nessuno ha ringraziato quelli delle banche e hanno lavorato nelle filiali garantendo una presenza pressoché costante e riempiti di scartoffie, di domande, eccetera. Quindi qual è l'identikit, se c'è un identikit del banchiere etico? Beh, diciamo, qui ovviamente si parla più per esperienza che per avere chiaro cosa succede a livello internazionale. Io vedo che ci sono un sacco di persone, soprattutto giovani, quando mi capita nella formazione, che già dalle prime battute del lavoro in finanza si interessano, anzi hanno proprio una passione per questo nuovo paradigma, cioè portare non soltanto le valutazioni meramente finanziarie, ma anche quelle appunto di impatto sociale e ambientale o di sostenibilità integrale nel loro lavoro. Dopodiché io credo che più terra terra le persone sono motivate da fare bene il loro lavoro, quindi purtroppo non dobbiamo far finta di nulla, il mestiere del bancario è stato in questi ultimi vent'anni e così anche la reputazione delle banche. Non è strano che nessuno si preoccupi di ringraziare le banche che sono riuscite a non fermarsi, a fare uno sforzo enorme, con un rischio sui bilanci molto pesante perché non sarà facile, soprattutto nel 2021. Hanno tutti messo in atto qualcosa per fare il lavoro, ma dalle banche, diciamo così, ci si aspetta, popolarmente sono considerate in modo molto molto negativo. Credo che questo dipenda dalla cattiva gestione, da alcuni esempi, anche da un generale, è facile parlare male delle banche, quindi lo facciamo, però anche dal fatto che il mestiere del bancario è stato veramente massacrato negli ultimi anni. Una volta in un paese si raccontavano le proprie cose personali al farmacista, al prete, al maresciallo dei carabinieri e se avevi soldi al direttore di banca. Oggi nessuno racconterebbe tutto al direttore di banca e questo è perché gli incentivi, la spersonalizzazione del mestiere ha fatto tanti danni. Allora, per tornare alla domanda, tante persone che poi lavorano, che poi alla fine anche nella finanza etica stai allo sportello, non è che stai sempre lì a pensare ai destini del mondo, tante persone sono motivate a lavorare nella finanza etica perché sanno di riabilitare il mestiere del bancario. Bene, bene, grazie. Alessandro Maria, che numeri ha il crowdfunding? Di cosa si sta parlando? Nel mondo si sta parlando di numeri giganteschi, anche l'anno scorso abbiamo parlato di quelle che erano le previsioni di banca mondiale nel 2016 con un paper e pensarono che nel 2021 sarebbero stati, scusate, nel 2018 sarebbero stati 85 miliardi di euro in tutto il mondo, in realtà nel 2018 sono stati più di 400 miliardi di euro. L'Europa va un po' più a rilento rispetto agli Stati Uniti e all'Asia, l'Asia va fortissimo e nell'ambito dell'Europa l'Inghilterra l'ha fatta padrone ma è stato così, l'Inghilterra è stato un paese molto forte in materia finanziaria. L'Italia sta crescendo molto rapidamente, con ritardo rispetto agli altri paesi, ma in modo molto interessante rispetto al passato. Considerate che l'equity crowdfunding, quindi l'investimento in capitali di rischio, è molto simile al venture capital. In Italia il venture capital, in fase che si chiama di seed, fase iniziale di sostegno delle imprese, negli ultimi vent'anni ha tenuto una media di 100 milioni all'anno di investimenti. Ecco, molto probabilmente se non ci fosse stato il Covid saremmo arrivati quest'anno a 100 milioni di equity crowdfunding, probabilmente si arriverà un pochino sotto, intorno agli 85-90 milioni di equity crowdfunding. Mentre il lending rischia di avvicinarsi al miliardo di euro, perché? Perché i prestiti peer-to-peer sono meno rischiosi dell'investimento in equity. Con un prestito, io alla fine del periodo, un anno, due anni, tre anni, ricevo indietro il mio denaro a più degli interessi. Tra l'altro il mondo dei prestiti peer-to-peer è nato in questo momento dal settore immobiliare, perché ci sono diverse piattaforme che consentono alle aziende immobiliari di accedere a questo strumento e all'energia c'è una piattaforma di lending che si chiama Ener2Crowd, che sta andando molto bene e sta sviluppando adesso anche dei progetti con delle società un po' più grandi, quindi delle multi-utility che stanno guardando al settore del crowdfunding. Diverse multi-utility stanno guardando a questo mondo, non solo e non tanto per raccogliere finanza, quanto per l'interesse che hanno negli aspetti accessori del crowdfunding, quindi la possibilità di fare retension dei clienti, la possibilità di offrirgli non soltanto un costo in bolletta, ma anche un ricavo in bolletta. Se io ti dico che tu mi devi pagare 200 euro al mese per il consumo energetico, ma ti dico anche che ne hai guadagnati 70 perché hai investito qualche risparmio in progetti energetici, tu hai un netto che è di 130, quindi sei ben contento di vedere nella tua bolletta anche un ricavo e forse sei anche disincentivato a cambiare gestore. Sapete che le utility in genere pagano 300-400 euro per avere un nuovo cliente che viene shippato ad un altro gestore. Quindi i numeri sono sicuramente in grande crescita, soprattutto anche con attenzione al mondo dell'economia circolare. Allora abbiamo un minuto a testa e poi chiudiamo questo panel, grazie tante. Baci Costa, allora parliamo di transizione, una domanda per tutti e tre la stessa domanda, da tre punti di vista differenti. Allora transizione all'economia circolare, ci ascoltano le imprese, ci ascoltano le amministrazioni, ci ascoltano le banche, transizione all'economia circolare. Cosa può fare la finanza, le banche e in questo caso la spinta dal basso con il crowdfunding? Baci a te il ruolo della finanza? Beh, certamente come ci siamo detti la finanza deve fare delle scelte e quindi deve dare degli elementi incentivanti ai settori produttivi. Una cosa che si parla anche molto è l'abbassamento dei tassi e a chi ha dei rating più positivi di sostenibilità. È una cosa che va analizzata, finora siamo ancora un po' indietro perché non c'è una reale condivisione generalizzata sui criteri di valutazione, però io credo che in futuro questo sia una cosa che deve essere sviluppata proprio per accelerare questo processo di transizione. Bene, e Bigeri, banca e transizione all'economia circolare? Una battuta breve. Beh, bisogna che le banche, tutte le banche compresi, sappiano valutare al meglio gli sforzi che le imprese possono fare nell'economia circolare, quindi le sappiano accompagnare anche nelle valutazioni di tipo economico e soprattutto sappiano valutare bene il fatto che di solito se un'impresa si pone degli obiettivi di lungo termine, come sono quelli dell'economia circolare, beh, sul lungo termine è più resiliente, regge meglio. Quindi c'è anche un vantaggio non da poco nell'investire in imprese che hanno una visione di periodo, di lungo periodo. Bene, bene, bene. E Alessandro Maria, questa è una palla facile per te, crowdfunding e transizione? Ma guarda, io rilancio, nel senso che crowdfunding è uno strumento di validazione che consente di controllare, c'è anche un controllo sociale sui progetti e su quello che viene realmente fatto. Quello che credo che ci vorrebbe per il mondo dell'economia circolare e soprattutto il settore dell'energia, che è quello che rappresenta il rischio più basso per gli investitori, ci vorrebbero delle misure di finanziamento pubblico simili a quelle che abbiamo visto negli ultimi anni per l'innovazione. L'ecosistema start-up innovative e PME innovative sta crescendo grazie a una politica fiscale di sostegno. Credo che questa politica fiscale di sostegno dovrebbe essere estesa anche, all'economia circolare, alla sostenibilità, ai progetti energetici, dove non sempre riusciamo a utilizzare quegli stessi incentivi previsti per l'innovazione. Molta parte dell'economia circolare non è un granché innovativa, qualcuno prova a utilizzare le innovative, ma spesso si tratta di una forzatura. Ci vorrebbero delle misure in verticale, perché le misure verticali sono compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato, per sostenere questo settore che è assolutamente strategico per il paese. Fantastico. Grazie ai nostri ospiti, Giovanni Battista Costa, presidente Next Nuova Economia per Tutti, Ugo Biggeri, presidente di Etica SGR e Alessandro Maria Lerro, presidente di Entopan Innovation. Ringrazierei anche Gennaro Dicello, con il quale abbiamo organizzato questo panel e mi fa piacere appunto ringraziarlo.